Che è il cartello che l'ho visto? Sì Guarda che cartello, madonna Guarda che c'è il cartello Passo! Ops Ah, una volta in da! Spera E regio Ho preso una borsettina di plato Si si, è la prima tenuta qua Gatta, fai una zoomata paura Vai, ho fatto zoom Sto zoomando Gatta, lo vedi? Si si che lo vedi Ma che se ne va? C'è un avvocato Sono lì, sono lì giù Oh mamma Oh tu gatta, sei lì Gatta Oh mamma Aiuto, ciao Noi, perché teniamo una nel viso ma facile Ma questi morsicano Hai visto? Morsicano queste cose qua Ma come si infila C'è un altro Un altro Un altro Un altro No hai la pida da la cabeza Que si cae Un altro Se mi ha un fa Se mi ha un fa Se mi ha un fa Un altro Piano Sì, non lo vedi! Cosa ha fatto io? Chi non dice di cose qua? È vero, come una basura. No, non sorridi! Non è negro! Mi chiede un borsa! Mi chiede un borsa! Mi chiede un borsa. Mi chiede un borsa! Sì, è la cinta del verde, è la cittura! Tua, guarda qui! Ti chiede, mi chiede una foto? Guarda questo qui più piccolino Piqua Io? Ah, a te o a te o a te? Ma niente, uguale Venuta mossa Qui c'è l'arcobaleno Qui c'è l'arcobaleno Qui c'è l'arcobaleno E il rèvo Non lo bello. Sono le 10.40 Oh sono le 10.40 Ciao ciao Questo non è remolito Alla prossima Sì, ma questi vengono di brutto. Si bagna di brutto qua. No, se mi metto così non si bagna. Arcobaleno. Non è male che adesso non si si bagna qua. Ha cambiato il vento. Devo riprendere questi uccelli qua, c'è niente. No, ancora l'ho perso. No, ancora l'ho perso. No, ancora l'ho perso. No, ancora l'ho perso. Non c'è più l'arcobaleno. Ah, è il sole. Ah, porca vacca. Ma va dai, ragazzi, dai. Uno, uno. Ma io che stiamo vivendo? Guarda, uno. Buon racco, ma bisogna usare perché questo è la resistenza. Guarda, guarda. Guarda. Guarda, guarda. Vittoria 1. Eh? Ma adesso ne facciamo un'altra. Se no poi ci vuole troppo tempo. Vittoria 1. Sono aperti tutte e tre. Adesso ci è aperto solo il primo. però con tutte e cinque i... Sei sono. Non, due o tre. Non, cinque. Sei, quattro. Sei, sei. Sei, quattro. Adesso scendiamo un attimo del pullman per vedere l'impatto, anche perché per evitare che l'acqua facesse uno scavo enorme di sotto della diga, quindi compromettendo le fondazioni, in fondo alla rampa c'è uno sparramento, un muro in cemento armato che fa da frangiflutti e quindi si forma una cascata naturale altissima. E' qua cinque minuti solo per fare una foto. E' il teipù, il teipù. Questo è lo scarico aperto. Meno male che è aperto. Ce n'ha aperto solo un. Altra cascata, pieno di cascata in Brasile. Altra cascata, c'è un muro di sospenio. E' un muro di sospenio. In modo che l'acqua quando arriva si salta e si allontana dal portamento. Perché non è aperto l'acqua, ma ci sono qua. Siamo qui a vedere la diga di Taifu, in maniera un po' noiosa, con la tua voce, con la mia voce, vediamo l'acqua, elemento base qua in Brasile, sempre acqua, vighe, cascate, qualche insetto. Guardate qua i bambini, e si che saranno brasiliani. Allora dovete andare a frutturare le due, invece di portarci a mangiare e farci perdere. E' troppo azzurro questo cello. Eh si, dal letto. No, se ne lo vedi. Questo cello. Ah! Si tagliamo? Si tagliamo? Abbiamo visto subito. Siamo di Pavia. Noi. Solo la prima volta che sono venuto. C'era aperto il primo di là. Questo è il posto grande. Ah, questo è il posto grande. Ah, questo è il posto grande. Questo è il posto grande. Questo è il posto grande. Il posto grande.